buongiorno amiche allora ho cambiato nuovamente postazione perché sono sempre alla ricerca della luce perfetta oggi sono ritornata nella mia camera dove lavoro e sono di fronte alla finestra sperando appunto di trovare la collocazione giusta per fare questi video quindi scusatemi le spalle cioè scusatemi quello che vedete alle spalle ma dietro c'è il mio tavolo del lavoro sempre un po incasinato allora di cosa parliamo oggi questa settimana in due o tre occasioni ho postato sia su facebook che su instagram delle scatoline delle scatoline decorate in modo abbastanza soft molte di voi mi hanno scritto in privato dicendo ma dai dimmi cosa c'è dentro per scatoline ora vi faccio vedere cosa ho fatto questa settimana allora parto intanto col farvi vedere le scatoline ve ne faccio vedere una alla volta questa qui la scatolina ho fatto un timbrino farfalla ho messo dei brillantini il logo e all'interno vi faccio vedere trovate questo naturalmente le scatole sono fatte a mano e all'interno trovate i bracciali della serie spiral che sono questi fatti in acciaio armonico con tutta una serie di perle perline e al nei due estremi ho messo dei charms allora qui da una parte ho messo un quadrifoglio e il cuoricino che vi avevo già fatto vedere in occasione del cucito creativo perché li applico sulle bustine del cucito con scritto love made with love mi pare se non se non ricordo male dalla parte opposta invece ho messo una foglia una fogliolina semplicissima se riesco a girarvela eccola qui e un cubetto in acciaio allora come sono nati questi bracciali non so se è mai capitato anche a voi ma immagino di sì che decidiate di fare un tipo di collana o un tipo di bracciale vi servono le perle le acquistate normalmente nei siti o nei negozi vendono 50 25 vendono buste già prestabilite solo in fiera credo credo si possa andare e si possa prendere 12 perle 7 perle quindi cosa succede che con gli anni facendo diverse cose ho accumulato perle singole o perle che comunque sono per grandezza o per colore sono magari sono rimaste inutilizzate io una volta ogni tanto lo faccio faccio un chiamiamolo repulisti utilizzando tutte le perle che sono rimaste in sospeso questo bracciale infatti vi faccio vedere è composto da perle in vetro lenti in vetro di coni in vetro poi ci sono una serie di cristalli che sono questo 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 cioè ci sono dei cristalli perle svaroschi nere poi ci sono dei tubetti quadrati in color acciaio poi vediamo che altro c'è sì c'è un vetro di murano vedete eccolo qui c'è un magnete color ametista e ci sono degli intercalari vedete degli intercalari che erano lì singoli oppure delle perline piccoline vediamo che altro sì vedete anche questo bicono in argentone insomma il bracciale poi indossato ma li conoscete di sicuro fa questa questa eccolo qui è così fa questa non riesco a dirvi cosa fa eccolo qui scusatemi che qui sia cavallato cioè fa la sua porca figura quindi quando ho fatto questi bracciali una volta che li ho finiti tutti ho pensato ok io questi bracciali li vorrei poi portare al mercatino oppure si proporre per la vendita avete presente se avete guardato i miei video precedenti avete presente come io in busto diciamo i miei le mie creazioni con questi faccio fatica perché dentro la busta si schiacciano non rendono e quindi ho deciso di fare questa serie di scatoline vi faccio vedere allora all'interno con il timbro è una scatola fondo coperchio fatto con la envelope e sul davanti trovate questo vedete con sempre con il simbolo comunque ora vi faccio vedere anche il l'interno l'interno è questo e su un angolino scrivo fa scrivo non scrivo timbro fatto a mano allora vi faccio vedere ora tutte le scatoline con i vari bracciali allora questa è la versione lilla sempre con due panciate questo di questo fiore un nastrino il fiorellino con la perla veramente molto semplici all'interno troviamo sempre il fatto a mano e poi trovate il bracciale questo bracciale viola eccolo qui fatto come l'altro naturalmente noterete che a seconda di quante perle io avevo a disposizione i bracciali sono più o meno spessi quello nero e bianco era più con più giri su questo utilizzato delle perle in vetro che sono queste delle e queste di vicone in vetro ho usato delle perle in vetro cerato ho usato dei cristalli scusate che guardo ho usato degli intercalari metallici eccoli qui ho usato delle perle mi sembra si chiamino miracoli magiche o miracoli insomma che alla luce fan eccole quali fanno di riflessi particolari forse lo vedete anche dal video naturalmente sempre sulle teste ho messo da una parte una bella chiave di violino e dall'altra ho messo una madre perla scusatemi che vedo di farvela vedere bene eccola qua una sera ma una madre perla è il solito cuoricino con scritto ora ve lo dico più precisamente made with love e questo è la versione viola questa è la scatolina azzurra quindi doppio raso un altro nastro in raso sempre una decorazione un fiore e una farfalla anche perché il mercatino che farò il tema sarà i fiori infatti a ville delle orchidee quindi mi hanno chiesto di far qualcosa che richiamasse i fiori siccome con i gioielli faccio leggermente fatica allora sempre il solito interno e questo è l'azzurro nell'azzurro vi faccio già vedere ho messo una barca la barca a vela da una parte e dall'altra parte ho messo una simpaticissima ancora vediamo se riesco perché naturalmente sono talmente piccini che ecco ho messo un ancora e il solito cuoricino anche questo anche questo bracciale è fatto composto da perle in vetro perle in vetro similmurano foglie argento ci sono dei grandi cristalli turchesi dei biconi invece in vetro normale dei bottini per le schiacciate non so come le richiamate sempre in cristallo delle perle in vetro cerato e anche delle perle tipo gesso sono tipo si sono in gesso queste qua sono molto particolari naturalmente anche qui per fare un po uno stacco ho messo qualche intercalare metallico comunque eccolo qui anche questo ha un colore splendido naturalmente lo sapete è il colore preferito quindi poi vi faccio vedere scusatemi si muove tutto perché sono io che mi muovo vi faccio vedere scusatemi il coperchio non ve l'ho fatto vedere subito molto semplice tre perle in col col adesivo incollate nastro in doppio raso farfallina e il bracciale è questo qui ho usato sempre vetro perle in vetro cerato più o meno usato i cristalli soliti cristalli vari ho usato l'unica che mi era rimasta una perlona in vetro craclè e queste perle che sono in vetro che ce l'ho da un sacco di tempo ho fatto delle collane fatto di bracciali me ne sono avanzate mi piace il colore veramente estivo per quanto riguarda invece i capi ho messo una perla arancio e questa volta il cuoricino l'ho messo color rame eccolo lì dall'altra parte giusto per ricordare l'estate ho messo una conchiglia eccola qua vedete è un fiorellino arancio in pasta polimerica che ho fatto io lo scorso anno o forse un paio d'anni fa che ho fatto tutta una serie di collane di bracciali con i fiori mi era avanzato e quindi ho deciso di metterlo anche questo vedete le perle erano meno quindi sono due giri però è veramente carissimo a me piace poi vi faccio vedere questa scatolina rossa nastrino rosso doppio raso in velo sempre farfalla e fiore all'interno ragazze è tutto uguale cioè timbrino e scusate timbrino questo è uno dei bracciali che mi piacciono di più eccolo qui è più grande perché di perle rosse ne avevo tanto e anche questo è fatto composto da perle in vetro e in cristallo poi ho utilizzato degli intercalari metallici anche qui ho usato delle perle miracoli che sono da quello che quello che ho letto sono fatte a strati per cui l'ultimo strato trasparente si riflette la luce fa un gioco di luce abbastanza particolare vedete come alla luce sembra un rosso molto molto intenso eccolo qui naturalmente per sdrammatizzare il colore perché un rosso molto intenso e un bordeaux ogni tanto ho messo delle perle schiacciate in cristallo già la vedete eccola lì ho messo da una parte la tour eiffel e dall'altra parte ho messo un piccolo delfino vedete con il cristallino e il solito cuoricino eccolo qui con scritto quello che vi ho detto prima queste ve la faccio vedere lo faccio vedere indossato a me ragazze piace io sto facendo molte di queste di queste cose e mi stanno dando grandi soddisfazioni vedo che riesco ad utilizzare perle che magari non utilizzavo da un po di tempo con dei risultati più che buoni vi faccio vedere velocemente questa è la versione in rosa vedete sempre la lavorazione sempre quella perché voglio comunque mi è caduta una cosa scusate voglio comunque che le che abbiano un filo che siano coerenti e il bracciale è questo scusatemi il bracciale è questo non vi ripeto con cosa è fatto perché al di là di qualche perlona in vetro particolare uso sempre i soliti cristalli il vetro gli intercalari metallici ve li faccio vedere così comunque ragazzi oggi se riesco faccio le foto e posto le foto sia su facebook che probabilmente sul blog trovate tutto nell'info box così li potete vedere da vicino come intercalari in rosa quindi romantico messo una coppia di cuori e dall'altra parte oltre al solito cuore ho messo un altro fiorellino sempre fatto in pasta polimerica fucsia altra versione è la versione in verde anche questa vedete doppio raso farfalla fiorellino sono carine specialmente perché se si decide poi di offrirle di regalarle in questo modo questa è la versione verde la particolarità di questa è che ha dei rombi in madre perla 12 e questo questa è vetro di murano foglia oro originale perché li ho presi io murano avevo qualche perla avanzata ho deciso di inserirla nel bracciale anche qui ho usato vetri ho usato cristalli ho usato intercalari metallici ho messo i soliti charms da una parte ho messo il bassottino che avevate già visto nell'altro braccia in un altro bracciale e il cuoricino e dall'altra parte ho messo invece giustamente la fogliolina ultimo che vi faccio vedere è questo qui scusate questa è il coperchio come vedete una volta ho timbrato ho messo codicino colorato perché questa qua è una versione un pochino più vedete un po più dai colori non esattamente estivi però secondo me ragazze è stupendo c'ha delle perle molto più grandi vedete delle perle molto più grosse ci sono i soliti cristalli ogni tanto c'è una perla vedete eccola qui una perla barocco che è una perla metallica metallica color oro un po ossidata sempre appunto vi dicevo cristalli café latte cristalli gialli vedete delle perle normali delle perle sul marrone che ha dei riflessi viola anche questo qui lo trovo bellissimo come charms ho utilizzato il solito fiore in pasta polimerica e dalla parte opposta ho usato una un cristallo dorato e il cuoricino dorato naturalmente tutti questi bracciali sono fatti in filo armonico quindi potete tirarli veramente come come vi pare allora questo è tutto quello che volevo farvi vedere oggi penso che posterò le foto vediamo se riesco a farle oggi se il tempo perché non è una grandissima giornata oggi se il tempo mi consente cercherò di fare le foto oggi di postarle sono pezzi unici questo significa che finiti questi non posso più ripeterli quindi ragazze se vi interessa contattatemi vi trovate sempre nell'info box anche per oggi ho concluso vi mando un bacione e vi auguro un buon fine settimana ciao